Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi carissimi telespettatori di FanoTV ma soprattutto buon inizio settimana. Oggi è lunedì 29 gennaio, questa è FanoTV e questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali. Partiamo dal santo di oggi, il santo che la Chiesa Cattolica ricorda oggi è San Gelasio II Papa. Parliamo di un santo vissuto intorno all'anno 1000, 1082. Il sole è sorto alle 7.28 e tramonterà alle 17.13 minuti. Questi sono i giorni cosiddetti della merla e andiamo a vedere allora il tempo per la giornata di oggi. Quando si dice i giorni della merla significa i giorni più freddi dell'anno. In realtà non è proprio così, infatti ci si interroga anche gli esperti, si interrogano su questi cambiamenti climatici. Per oggi la protezione civile delle Marche prevede un cielo sereno o poco nuvoloso. Stessa cosa domani, martedì 30 di gennaio e prossimi giorni ancora con tempo tutto sommato discreto e addirittura aumento delle temperature. Allora andiamo a vedere adesso i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico pubblica in prima pagina la cronaca, cade in moto sulla Picchiese, gravissimo, un quarantenne perde il controllo del mezzo per un dosso, Centauro in coma farmacologico, è successo a Piobbico, aveva approfittato di una giornata di insolito tepore per rombare con la sua moto, poi però purtroppo è caduto ed ora è ricoverato in prognosi riservata. La pagina a centro pagina, la foto principale è per il carro di Rossini che ieri ha debuttato al Carnevale di Fano. 2000 bloccati agli ingressi, stress per le norme di sicurezza, ma dopo 20 minuti di attesa tutti entrano. Belli nuovi carri di Rossini, El Voulon e del Pesce Azzurro Show. La pagina di Fano del Corriere Adriatico, l'andiamo a vedere subito. Rossini suona il prosciutto e incanta, mentre in strada il sindaco fa El Voulon. Ricci tra il pubblico, il carro dice bellissimo, grazie a Piccinetti, piacciono anche le creazioni di Chiappa e Fantagruel. E poi c'è la doppia interpretazione della maschera tipica di Fano con Jeffrey Di Bartolomeo e Seri accanto alla presidente Giammarioli. Sia Seri che appunto Jeffrey Di Bartolomeo hanno indossato la maschera del Voulon. Ed eccolo qua il protagonista del Carnevale di Fano, il carro di Pierluigi Piccinetti, dal titolo La Calugna è un venticello. E poi c'è l'iniziativa del Corriere Adriatico, acquistando il quotidiano si può ritagliare questo coupon e votare gli allestimenti più belli. In omaggio ci sono 10 abbonamenti online al Corriere Adriatico. L'altra pagina invece si occupa dei disguidi e dei problemi che appunto hanno interessato circa 2000 persone bloccate agli ingressi, mentre c'erano comunque all'interno del circuito spazi vuoti. Intorno alle 16 il sistema è finito sotto stress ma dopo 20 minuti tutti sono entrati e queste sono le fotografie. Poi da fiabe ai cartoni le ispirazioni dei bambini, il Carnevale dei piccoli ha riempito via le Gramsci uno stimolo alla creatività. Di spalle invece la fotografia del sindaco Massimo Seri con la rappresentante di Gandia, che è la città spagnola ospite del Corso Mascherato. La persona che vedete qua a fianco è l'omologa del sindaco di Fano, quindi la sindaca, il sindaco comunque della città spagnola. Andiamo invece sulla pagina di Urbino del Corriere Adriatico, la cronaca con tutti i particolari di questo brutto incidente, dove questo, vedete la moto finita a terra dopo lo schianto contro il guardrail lungo la Pechiese. Un incidente gravissimo, un uomo di Fossombrone che adesso si trova ricoverato all'ospedale di Urbino. Sul Nerone invece è stato soccorso un appassionato di trekking caduto dopo un malore. Il salvataggio è avvenuto in località La Montagnola, tra l'altro è arrivato anche l'elicottero del 118. Mentre il Papa benedice l'associazione Santa Veronica, il patto di mercatello sul Metauro promuoverà la scherma, ma anche il turismo. Andiamo a vedere adesso la pagina di Pesaro del Corriere Adriatico. Queste sono le fotografie da Piazza del Popolo, dove c'è stata la festa degli animali. Show equestre in centinaia hanno presenziato alla tradizionale benedizione. Sotto Sanità, l'entroterra e siamo a Fossombrone. L'entroterra si mobilita per Fossombrone settimana calda con tre iniziative in programma. Ancora da Pesaro, ladri sorpresi, la fuga passa per i tetti. Inseguiti dalla vittima in zona Loreto, altri furti nella serata di sabato a Soria e a Pantano, tra colpi e tentati e messi a segno, la fascia oraria tra le 18 e le 22 diventa sempre più critica. E poi alcuni immigrati, questa è la fotografia, la fotosegnalazione, la fotonotizia, immigrati controllati a Porta Rimini. Dalla Valle Foglia, le eccellenze del territorio ora fanno bene alla salute, presentato porco e legumi a Colbordolo la serata, insieme all'Asso Diabetici. Sotto scuole messe, siamo a Monbaroccio, scuole messe in sicurezza a Monbaroccio, interventi antisismici nel complesso che ospita le scuole elementari e le scuole medie. Dalla Valle del Cesano, la buona notizia per gli automobilisti, perché la provincia adesso asfalta tante strade che ora sono impercorribili a Mondavio, alcune opere già eseguite, altre sono al via nelle prossime settimane. E sotto Pergola Unita, tre volti nuovi e sei conferme. Presentate le buone pratiche nell'agricoltura, si parla anche del caso dell'Istituto Binotti. Da Senigallia, la famiglia del Boy Scout impiccato, ci sono tanti dubbi, adesso i familiari chiedono di trovare la verità. Otello Baldini non si dà pace per la fine del nipote, troppe domande ancora senza risposta. Pensavano fosse in una fase di crescita, mia figlia si è rivolta ad uno psicanalista. Qui c'è la vicenda di questo ragazzino che è stato trovato senza vita impiccato nei giorni scorsi a Senigallia. Muore il nonno, trova il suo diario da internato. Bartolini di Corinaldo ha scritto le sue memorie di prigioniero in Germania. La pagina di Pesaro invece adesso del Corriere del Resto del Carlino, anche qui in primo piano il Carnevale di Fano. Carnevale assediato, folla alla prima sfilata, circa 1.500 visitatori tenuti fuori dai varchi per ragioni di sicurezza. Protestano e solo dopo riescono ad entrare. Si replica anche domenica prossima. Poi le politiche con la Fabri che dice di volersi ritirare, poi ci ripensa. L'altra notizia è bufera all'interno del Partito Democratico, Fabri fatti più là, Bonelli le sfila il Senato, lei medita forse il ritiro. L'altra notizia invece di cronaca che arriva da Orciano, colto da un improvviso malore, 19 anni e muore a casa dell'amico. Davide Cardinali si trovava in un'abitazione in pieno centro storico, lungo sopralluogo dei carabinieri del posto, sequestrati medicinali. Sotto invece lo sport, anzi altra cronaca con l'escursionista colpito da un infarto sul Nerone, arriva anche l'elicottero trasferito in volo all'ospedale di Perugia. Poi la festa con la benedizione degli animali in piazza come l'Arca di Noè e la vispesero. Altro flop ad Avezzano, la visse che perde e ora il Matelica dista 9 punti. E allora le pagine interne, qui torniamo a Terre Roveresche, a Dorciano, muore a 19 anni in casa di un amico, la tragedia all'ora di pranzo, trovati medicinali, indagano adesso i carabinieri. Tutto è successo nel giro di 5 minuti tra le 14 e 15 e le 14 e 20. Andiamo sull'altra pagina, attacco di cuore, si accascia sul Nerone, questa è la fotografia, vedete, dell'ambulanza che ha portato l'infartuato su un punto dove poi è atterrato l'elicottero. Attacco di cuore, si accascia sul Nerone, escursionista a cinquantenne, soccorso dal 118 e dall'eliambulanza che poi ha trasportato l'infartuato a Perugia. Sono tantissimi gli amanti della montagna che salgono a piedi fino alle antenne. Oggi l'addio all'allenatore Giovanni Poncele, il dirigente della DMM Nuoto, aveva 55 anni, il mondo sportivo si ferma per ricordarlo. I funerali saranno celebrati questa mattina alle 9.30 nella chiesa Santa Croce in Via Lubiana a Pesaro. E adesso la politica. Allora, il rebus delle candidature, proporzionale, Bettini al posto di Mocchi e Baldelli guiderà Forza Italia. Anna Renzoni sfiderà il ministro Minniti. Centrodestra, ultime strategie, oggi i nomi anche della Lega. 15 anni, tanto è durata la leadership di Ceroni che si è dimesso l'altro ieri in Forza Italia. Mentre sul fronte 5 Stelle Andrea Cecconi schierato sul doppio fronte, se eletto passa anche Terzoni. Confermato Cattoiafano, liberi uguali, schiera alla Camera, Ciaroni e Brignone. L'altra pagina del resto del Carlino, sempre sulle politiche, sui nomi che in questi giorni stanno facendo perdere il sonno a tanta gente, gli interessati più che altro. Senato, Bonelli le prende il posto, Camilla Fabri minaccia il ritiro, spostata sul collegio Fano Senigallia, inserata ipotesi di accordo. Ieri, questi sono gli ultimi rumors, ieri alle 21 circa pareva che la senatrice accettasse lo scambio, ma erano solo voci, lei non ha mai risposto infatti al telefono. E poi si parla dei soliti paracadutati da Roma, questo è il rischio per il PD locale, nel caso in cui Fabri si ritiri dalla gara, nella competizione uninominale. Insomma, è stato un pomeriggio convulso, prima convoca per il 17 una conferenza stampa di ieri, una conferenza stampa nella sede del Partito Democratico, poi la ritira attendendo, in sostanza, cosa dice Roma. L'ultima pagina è per il Carnevale di Fano, sotto pressione, centinaia nella Ressa, alle 15.45 la capienza massima era già stata raggiunta, dopo mezz'ora sono entrati tutti. L'infortunio, poi c'è stato un piccolo infortunio sul carro della Gazzaladra, dove una ragazza è caduta ed è stata soccorsa dal 118. Il carro rossegnano fa incetta di flash, presente anche il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, mentre la curiosità è il ristorante Pesce Azzurro ha lanciato Cioccolatini con il suo marchio. Ok, salutiamo anche tutti quelli che ci seguono su Facebook in questo momento, sono tanti, come tutte le mattine, ormai siamo cesi, Valentina Valdelli, Marcella Sora, Massimo Scarpetti, Romina Barnesi, Cristina Nardini, insomma tanti anche oggi, Marzio Paola Capodagli, Daniela Fiorelli, buongiorno anche e buon lunedì a Loredana Mattioli, Massimo Scattolini, tanti, tanti, tanti davvero, quanti siete. Ok, vi salutiamo tutti, noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia, se avete segnalazioni, come sempre, il 338 4968 250 è a vostra disposizione. Buona giornata a tutti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS